Ok ragazzi, eccoci qua con un altro video su Fortnite sempre registrato fuori casa E tra l'altro grazie mille per il supporto nel video di ieri Anteprima skin tra l'altro, l'ho fatto vedere ieri pomeriggio Ragazzi oggi parliamo appunto di una skin in particolare Sto parlando di quella skin Celestial, ok? Che ho scoperto in realtà dal codice del game che un utente ha postato ieri su Twitter Che il nome Celestial è per gli sviluppatori in lato codice Mentre il nome vero dovrebbe essere Galaxy Questa skin che molto probabilmente sciopperò Perché ho visto che a molti di voi ieri nei commenti, anzi vi ringrazio Molti di voi hanno apprezzato questa nuova skin Ragazzuoli, in questo video di oggi, in questo mini video, anzi mini vlog Scusate per la qualità ovviamente Vi parlo dei due metodi, sembra non ufficiali perché non è l'IP Games A dirci direttamente tutto ciò Due metodi per ottenere questa skin Il primo metodo raga, trattandosi del nome Galaxy Uno va a pensare che sia per chi andrà a prendersi in anteprima Il Samsung Galaxy Note 9 Perché tra poco dovrebbe esserci il lancio ufficiale di questo nuovo dispositivo Che a quanto pare si porterà dietro già il game Fortnite Mobile installato Stiamo parlando di Android, ok? E questo è il primo metodo Ma il secondo è quello che secondo me è più plausibile Perché si parla invece di un pacchetto completo all'interno del game Un pacchetto che sembra, secondo altri leaks ragazzi Ho già visto qualcosa stamattina appena mi sono alzato Ancora prima di fare colazione Che questo pacchetto potrebbe costare 4,99$ Quindi circa 3,80€ se non sbaglio Un pacchetto raga con la skin Galaxy da 5$ nel game E ragazzi se sarà così Penso che tutti quanti lo shopperanno E penso che lo potranno fare anche quelli iOS Ragazzi, voglio darvi queste due informazioni qua Secondo me, ditemi Scusate, o meglio Secondo voi Ditemi un po' nei commenti Quali di questi due metodi potrebbe essere quella più plausibile Più fattibile all'interno di Fortnite, ok? Io opto chiaramente per la seconda Raga, aspetto il vostro commentino Noi ci vediamo chiaramente nel prossimo video Adesso appena so qualcosa di ufficiale riguardo soprattutto questa skin Perché, attenzione, non sarà shoppabile nel negozio Da quel che vedo nei leaks Cosa che me ne sono scordato di dirvi all'inizio video Importantissima Attenzione, ripeto raga Questa skin Galaxy probabilmente non sarà shoppabile nel negozio di Fortnite Ecco perché vi parlo di metodi alternativi per ottenerla Ragazzi, vi ringrazio Noi ci vediamo ad un prossimo videozzo Ciao Ciao